3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazzi! Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video challenge! Make up a kids' challenge! Bellissimo ragazzi, perché abbiamo trovato questi bellissimi in faccate qua, ovvero, sono della Lishani e sono questi, guardate, io non posso avere lì dentro! Allora, le facciamo vedere uno alla volta. Allora, questo che è l'altro più grande e si chiama il grande scrigno dei miei trucchi. E questo invece si chiama I love my cup. Allora, ora vi dico subito quello che contengono quella più piccola e quella più grande. Allora, quella più piccola dico più meglio. Una trussa a forma di cuore con una farfalla decorativa e uno specchietto, quindi stupendo. Poi 6 ombretti, quindi tantissimi, 5 luci da labbra, poi 4 fard, 3 pennelli per applicatori, poi uno smalto, un separatore, un'alimenta per unghie e 12 unghie finte con biadesivo e poi l'estruzione d'uso, quindi veramente pieno e questa è la più piccola. E poi vediamo quella più grande. Quella più grande tiene ancora più cose, quindi per dirvi è veramente fornitissimo. Allora, va bene. Allora, non dobbiamo prendere più, non dobbiamo farci più i nostri trucchi di nostra mamma, per la nostra piccola pelle, per le nostre bollicine. Andiamo a prendere il nostro make up per kids, per bambini. E ragazzi, questo è al 100% approvato per i bambini, non fa uscire pelle, non fa uscire macchie, non fa uscire niente di questo genere, ma si può semplicemente giocare e divertirsi. Quindi, bellissimo. Allora, quindi vediamo cosa c'è nella trousse più grande. Allora, questa è la trousse. Allora, questa si chiama il grande scrigno dei miei trucchi, ed è quella. Ora vediamo quello che c'è. Il contenuto è una trousse a forma di sfera con 13 ombretti, poi 17 luci da labbra, 5 fardo, 3 pennelli applicatori e una matita per labbra, uno specchio e istruzioni d'uso. Quindi, apriamo. Beh, Giulia, io direi aprirle, così iniziamo subito la nostra make up challenge. Quindi, dai, apriamole. Ragazzi, questa trousse è senza parabeni, quindi per la gioia di mamma, che noi consumiamo più i trucchi per giocare, e per la nostra cara pelle, che non c'entrano più le bollicine, hanno fatto questo. Questo che è bellissimo, guardate, c'è. Bellissimo. E appunto è senza parabeni, apposito per bambini, quindi apro anche io che sono troppo felice. Cioè, ora vedremo come sarà finita. È molto semplice da aprire, e sotto esce anche questo. Raga, cioè si può mettere pure così, cioè si può mettere di così, si può mettere di così. Ragazzi, abbiamo levato le protezioni che appunto non facevano sporcare tutta la trousse e tutto quanto, e poi abbiamo anche sistemato tutto. Ora ragazzi, allora, le regole sono che in tre minuti ci dovremo truccare. Il trucco più bello sarà scelto da voi. Scegliete me, asciuta anche Giulia, non mi andate, non mi andate, non mi andate, scegliete me, scegliete me, asciuta anche Marghe, asciuta anche Marghe, e poi la sua madre lo precederà, stop. Ok, quindi, allora. Apriamo. 3, 2, 1. Ah, guardate, sto prima di partire per lo specchietto, perché all'interno c'è anche lo specchio, e non si può anche piegare, oppure si mette così, come pretende. Andiamo, 3. 3, 2, 1, 2, iniziamo. Io non riesco a piegare niente. Ah, ok, questo. Questa è la matita blu. E che faccio? Anzi, sceglierei di farmi l'ombretto per il rossaggio. Io mi sto mettendo un ombretto, viola, porpora, un po' così, molto figo. E poi lei, prendo il pennellino, e incomincerai da qua. Non mi copiare, baby. No, sto prendendo un po' di rosa, come un tempo dopo. Giulietta, prendendo lucida labbra? No, scherzo, non sto prendendo lucida labbra, sto prendendo i miei occhi colombi. Ma ti ricordo che noi abbiamo solo 3 minuti, eh? Sì, lo so. Già è passato 1 minuto e 12. La prolunghiamo a 5 minuti, perché è la vita difficile. Allora, faccio anche un po' di rosino, molto fighino. E lo spommo qui sopra. Così. Ma figo questo, eh? No, si prende un po' di rosa, con un po' di violetto strano. E anche un po' di rosso, io prendo, dai. E un po' di verde, così. Vediamo un po' strano sulla pagina. Wow, guarda il mio occhio, spicca tutto. Vuoi vedere? Come fa? Anche un po' di polvola, quindosa, e poi un po' di rosso e un po' di aranzone. Mi faccio bigolore. Faccio fare l'altro. Ecco. E io farei così. Così, 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 così. Così. Così, ragazzi è troppo figo questo si è troppo figo guardate quello era un sacco troppo bello 5 minuti scaduti però facciamo una cosa dai completate il trucco e poi facciamo votare da casa veloce però è come sto con questa matita viola come sto con questo voluto labbra poi voglio mettere anche glitter io vorrei mettermi qualcosa della truca del nostro codicino cioè del nostro codicino un po' di smalto non può mancare uno smalto ok e chi sono se mi sono qualche peschino io dovete sapere che non sono molto brava ad aprire le cose ma io non mi voglio dire facciamo senti che comunque tanto lo challenge è scaduto ora mi voglio finire cioè come si apre come si toglie la tarta papuzzo e come riesco a prenderla mi metti mi devi aiutare bello mi aggiungi del favore no per niente cosa mi vieni a prendere a prendere il pennellino anche se già ho messo la matita per le labbra è un po' di più griglia ma voglio mettere l'altro luci da labbra metti sui luci da labbra così così bene questo smalto è troppo carino wow figo mi piace il trucco qua odora vediamo se riesco ad usare anche qualcos'altro di là vediamo un pochetto allora qua chiudo fermati allora cosa facciamo ora molto caro mi voglio rimanere le unghie facciamo così guardate com'è figo stai mettendo lo smalto si è un ruota per le unghie guarda figo io mi sto rimando le unghie guardate guardate un po' io mi sto limando non ci vedo eh poi vi farò vedere alla fine del mio mic up mic up questo è stato il primo lavoro io ho finito il mio trucco ancora al mare c Pierina Очera j ecco li cosa si può fare e mi dovete aiutare a prendere questo qui si 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 lunedì wow è venuto veramente figo top proprio guardate scrivete giù nei commenti ragazzi qual è stato il trucco migliore e allora scrivete hashtag o marvie perchè non c'è il paragone vi vedi questa ultima cosa hashtag giulia come si mette ragazzi mentre giulia si finisce di truccare io vi faccio vedere questa è la trusse più piccola con a forma di cuore con questa varfalla sopra troppo bella fighissima ed è si chiama free and beauty cioè qua sopra sta scritto free and beauty e poi c'è questo che è meraviglioso ma meraviglioso proprio bellissime ed è questo il grande scrigno delle mie cucchie ha anche la base in modo che appunto voi o la mettete così per truccarvi io mi trovo più di più così oppure la mettete così e la margarisciana è bellissima ragazzi è stupendo è stupendo ragazzi è finissimo è bellissimo Giulia fa vedere dai mettete un po' di gloss dove c'è il gloss non lo vedo ragazzi la challenge finisce qua se il trucco mio vi è piaciuto ovviamente lasciate hashtag marghe perchè io è il trucco bello tu dove fai vuol dire che devi non lasciare un like per te aspetta anche per me per te che per Giulia no per questa qui ma va va ragazzi 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 ho messo anche le unghie guardate quanto sono belle ragazzi quindi per la gioia di mamma che non gli rubiamo più i trucchi per noi che non ci escono brufoli e cose del genere perchè questo set questo kit di trucchi è senza parabeni il kit di trucchi lisciani è senza parabeni ragazzi vi giuro quindi è bellissimo quindi 3 2 1 2 quindi ragazzi questo era il video spero vi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii su facebook marghe giulia kawaii real sul secondo canale magi tv su musicali marghe giulia real e se volete le maglie le maglie le uovere le tasse andate su www.marghe giulia kawaii punto it e lasciate un like per questa cosina bellissima se vi è piaciuto lasciate like commentate e iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto shhhh musica 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 musica